questa azione è di Yokisalo allora rimessa per il Bitonto Lusileia si crea lo spazio e calcia la conclusione di Diana e poi la Lazio ne esce in dene da questo attacco Siclari tamponata da Giosi e c'è il rosso rosso per Giosi Yokisalo Vanessa la Lazio muove il pallone velocemente Pasquala un po' di spazio con la punta palo si rialza in piedi il pivote di Chilelli rimessa Lazio Siclari per Vanessa tiene il pallone lì Conticelli Lazio in vantaggio Vanessa Grieco non è finito l'affondo del Bitonto pallone rimane lì mansueto ancora Vanessa Lusileia o Renatigna fischia l'arbitro Renatigna arriva il pareggio del Bitonto è 1-1 Pasquala in barriera parte Diana Pepe vola si muove mansueto ecco la servita può fare la conclusione ancora Pepe il Bitonto con Tampa si fa largo Tampa il Bitonto fa 2-1 parte Yokisalo Palo Siclari recupera un ottimo pallone Siclari per Colucci stanza prolungato 1-2 mansueto Pepe a prendere il pallone Colucci contro il pere della Lazio Colucci mette dentro Vanessa non riesce ad approfittare dell'errore di Sesti pace fatta e allora punizione per la Lazio parte Vanessa trova splendidamente Diana ha un po' di spazio Diana stop rientra Renatigna con la punta Pepe contro Barca se ne va Lusileia mette dentro pallone rimane lì con Ticelli para con i piedi puntata e pescata Lusileia si libra Lusileia Pepe ancora una volta il capitano del Bitonto poi lancia in profondità Pepe riprende da dove aveva lasciato ovvero a difendere benissimo la Lazio conclusione mette dentro Barca a domestica all'indietro da Vanessa deviazione e 2 a 2 Vanessa Pereira all'indietro Mansueto carica la botta il Bitonto torna avanti e 2 a 3 ora viene mostrata anche una maglietta speciale fine vince la numero 6 possesso per il Bitonto fermato tunnel di Vanessa manovra della Lazio Barca lascia il pallone a Barca che va forte sul secondo palo si salva il Bitonto vediamo se lo schiamo lo stesso si Cecilia mette dentro deviazione decisiva di Grieco è 3 a 3 soglia la minaccia poi Siglar in avanti per Pasquala Sesti direttamente dalla sua porta Vanessa intercetta un altro passaggio Vanessa conclude Lucy Leia ha un po' di spazio Lucy Leia Pepe Bitonto ancora in avanti Renatigna mette dentro Colucci Sventa la minaccia e poi traversa di Lucy Leia Masueto Lucy Leia mette dentro Vanessa Siglari di punta Siglari sul fondo a duettare sulla metà campo della Lazio qui Lucy Leia non riesce ad indirizzare in porta a battere quest'ultima rimessa laterale cross dentro e il gol non è buono non è buono perché finisce la partita poco prima che il pallone oltrepassasse la linea di porta finisce allora 3 a 3 un enorme un enorme Lazio pareggia contro il Bitonto